ciao ragazzi prima di iniziare la live reaction due paroline molto veloci per riassumere due concetti chiave uno grazie per il supporto perché quando la juve perdo viene eliminata ci sono sempre tantissime visualizzazioni siamo in tendenza ancora una volta evviva evviva perché tanti anti juventini e tanti juventini di quando bisogno di una spalla su cui piangere vengono qua a cercare un po di conforto e quindi vediamo un po se riuscirò a darvelo vi lascio una reaction conclusiva di questa stagione non vedo l'ora che finisse e non sono convintissimo della permanenza di sarri in bianco nero dopo le parole di agnelli ieri sera sky avete sentite non avete sentite nel caso ci vediamo oggi alle ore 13 su twitch dove andremo ad analizzare tutti insieme tutte le parole del post partita questa partita si che la sbagliano infatti vedi ci hanno paura anche loro per ronaldo dentro ronaldo alta sopra la traversa buono 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 dai fuori gioco va bene ma ci siamo abbiamo approcciato bene per i primi minuti di gioco mi va bene il cross del lione non ancora loro a war scesni ehi ehi e fallo ma no rigore ma no rigore ma no rigore perché rigore ehi ma vai a vederlo al var non può non puoi dare rigore 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 no c'è no ma cosa c'è da aspettare è di rigore no non ci credo impastisco 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 non ci credo 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 Eh no mi rifiuto No mi rifiuto No Non è possibile Non è possibile Non è semplicemente possibile Allora possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo Programmare tutto quel cazzo che vogliamo Dire questo va bene Questo non va bene Per la stagione successiva Ma queste cose Non vanno bene C'è il VAR cazzo Non ho parole Ma che cazzo c'entra Iguain che non ha protetto la palla Si Berna Si Berna Porta vuota Bravo Berna Bravo Berna Ma per cortesia Ma per cortesia Ma per cortesia eh Ma si è preso contro con i suoi piedi Ma si è preso contro i suoi piedi Ammonito Per cortesia eh direttore Per cortesia è direttore Ma non ci credo Ma non ci credo Uuuuuh Dio l'avevo visto dentro Cos'è? C'è il cartellino giallo Per rigore? Per rigore? Per rigore? Per rigore? Per rigore? Questo è l'intervento Braccio lungo il corpo Dice Depai Ma cosa? Ma cosa ha visto anche stavolta? Cosa vedi? Ma cosa vede? Ma questo qua Ma cos'è? Ah ha fatto Ma ha fatto leggermente così eh Ma non ha fatto leggermente eh Ma che cosa sta fischiando questo qua? Dai Dai! Come ce l'han fatto loro Lo facciamo anche noi eh Dai! Uno a uno Secondo me non è mai rigore questo Dai! Uno a uno! Ma non è rigore mai Neanche il primo Dai! Dai! Ne mancano due Dai! Bravo Cri Te lo meritavi prima C'è punizione Cazzo Dai! Dai! Bentancur Siamo unito Bentancur Tutto di qua 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 Oh! L'ha fatto! E come l'ha fatto? Vai Cristiano! Un fulmine accen sereno Vai! Ma che gol hai fatto? Ma che gol hai fatto? Cristiano mio! Mamma mia! Non me l'aspettavo minimamente Stavo guardando tutto Alessandro di qua Bravo Cri! Dacci sta cazzo di speranza Cristiano Daccela! Bravo Cristiano Dal niente Dal nulla! Dal nulla! Dal nulla! E adesso c'è qualcosa C'è qualcosa Che si chiama Speranza forte qua Adesso c'è sto male Dai Cristiano! Non ci posso credere Era la tua palla Cri questa Era proprio la tua palla Cri questa qua Ci 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 C'è? C'è? Ci hai fatto male di bala Ci hai fatto male di bala Ci hai fatto male di bala Ci hai male di bala Porca troia Ti voglio bene Paolo Ti voglio bene Paolo Quella palla Dietro quella linea Quella palla Dietro quella linea La tiene ancora 6.40 Ci va con convenzione Reina De Laide E finisce qui Finisce 2-1 Finisce 2-1 Con la qualificazione Del Lione Con il tentativo Di rimonta Della Juve Firmato da Grecian Donaldo Ma con i francesi Che passa L'altura successiva E finisce anche Con la delusione Di Di Bala Che ha provato Ma non era meglio E si è bloccato subito Speranza forte Questa è una vez